In una manciata di sedute l'indice Nasdaq sta praticamente registrando un qualcosa di simile al meno 10%. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. È l'inizio di un cambiamento di trend? Di un mercato ribassista il quale comincia a scontare una recessione imminente? Sono questi i dubbi, le domande? Sta scoppiando una bolla sul mercato azionario? Io direi keep calm, come direbbero oltreoceano. Quindi manteniamo la calma e andiamo a fare dei ragionamenti sereni e logici. Io sostengo che fino a questo momento non è accaduto nulla, anzi sta succedendo un qualcosa di necessario e normale. Ovvero delle classiche prese di profitto dopo delle corse eccezionali, delle valutazioni comunque alte da parte di alcune aziende, di un settore specifico, di alcuni indici e così via. Nello specifico vi sto mostrando l'andamento del Nasdaq 100, quindi è un esempio molto importante. E quindi vediamo qui le candele settimanali. Stiamo di fronte all'andamento degli ultimi 5 anni. Ma vi rendete conto che il Nasdaq 100 registrava 6.000 punti alla fine del 2019? E ad oggi, dopo 5 anni neanche, ci troviamo a 18.800 punti e fino all'altro giorno stiamo a 20.000 punti? È stata una crescita clamorosa. Quindi il mercato deve respirare. Ha bisogno, soprattutto per rimanere un minimo sano, di risolvere situazioni importanti di ipercomprato. Ed è quello che sta accadendo. Ma per farvi rendere meglio conto della situazione, io mi sposto su un indice ancora più studiato, che è il nostro benchmark di riferimento, Amato e l'S&P 500. Qui abbiamo la fotografia degli ultimi 24 anni, per quanto concerne il numero di sedute, senza che questo indice registrasse una discesa superiore in una singola seduta al 2%. Qui, in questo periodo, abbiamo registrato 356 sessioni consecutive. Quindi un periodo migliore in tal senso si era registrato soltanto nell'epoca 2004-2007. Quindi non è normale avere un mercato che cresce soltanto e non vive dei distorni. Prima o poi è inevitabile. E il mercato 2004-2007 è quel mercato che si riprendeva dalla crisi.com. Andiamo ancora avanti. Qui possiamo vedere l'andamento dell'S&P 500. E come vedete, per ora non è accaduto assolutamente nulla. Anche qui, semplicemente, siamo andati a risolvere pian pianino una situazione eccessiva di ipercomprato. Ma vi rendete conto sempre che alla fine dello scorso ottobre, stiamo parlando di una decina di mesi in pratica, questo indice registrava poco più di 4.000 punti e fino all'altro giorno stavamo oltre 5.600 punti. Quindi direi che è fisiologico magari vedere un pullback classico a 5.200. Ma io non mi sorprenderei proprio minimamente. Vogliamo farlo almeno un meno 10, un meno 15. Una corsa praticamente in 9-10 mesi del 37%. È normale e necessario che accada questo. Perché se lo rimandiamo, poi viviamo le bolle e le catastrofi. Quindi io sono molto contento di osservare questa situazione. Poi voglio mettervi in evidenza alcune cose che ci fanno rendere conto meglio della situazione. Perché tutti quanti noi, penso, comunicatori qui su YouTube che parliamo di investimenti e finanza, a un certo punto abbiamo anche incontrato quale fatto, quello che tutti quanti noi ormai sappiamo, ovvero poche aziende grandi e tecnologiche hanno trascinato, hanno trenato su negli ultimi anni l'indice. È soprattutto frutto dell'Information Technology. Ma se noi andiamo ad osservare qui questi grafici, il tutto si fa ancora più eclatante ed evidente. Quindi ad oggi è un indice Information Technology, essenzialmente l'SMP500 e poco più. Guardate, se noi mettiamo la forza relativa dei singoli settori contro l'SMP500, otteniamo quasi sempre questa configurazione. Qui stiamo osservando il Communication Services, quindi ci potrebbero essere aziende come NT&T per farvi intendere, contro l'SMP500. Stiamo a dei livelli minimi, partiamo dal 1990. Possiamo fare lo stesso giochino con altri settori. Ora li andiamo a vedere perché, ovviamente, non ci sarà stato solo l'Information Technology, magari anche qualche altro settore avrà mostrato un po' di forza relativa ai muscoli confrontandosi all'SMP500. E effettivamente abbiamo anche i consumi discrezionali che dal 2009-2010 sono andati molto bene. Fino a pochi anni fa adesso stanno perdendo un po' di forza relativa. Ma consumi discrezionali, ragazzi, quando ad oggi andiamo a confrontarli, si parla essenzialmente di due aziende. Perché guardate, il classico indice, un classico paniere, un classico ETF sui consumi discrezionali degli Stati Uniti d'America, segnala Amazon con un peso all'interno dell'indice del 31% e Tesla di un 15%. Quindi metà indice rappresentato soltanto da queste due aziende. Se noi le togliessimo, io non so dove andrebbe qui la forza relativa degli ultimi anni di questo settore rispetto all'SMP500. Andiamo ancora giù e vediamo le consumer staples sotto le scarpe. vediamo gli energetici, anche qui molto bassini. Hanno rialzato la testa nel 2021-2022, ma poi, guardate, di nuovo, stanno perdendo forza relativa. Il financials, quindi finanziari, va bene, anche qui proprio sui minimi. Healthcare, quindi se parliamo di salute, farmacologici, insomma tutto ciò che dientra in healthcare, beh, questo settore se la sta cavando bene. Vedete? Anche qui negli ultimi tempi ha perso un po', ma in ogni caso ha mostrato un trend in crescita. Quindi anche questo settore comunque negli anni ha partecipato in maniera importante alla crescita dell'indice. Gli industriali è invece di nuovo sotto le scarpe, quando comunque anni fa rappresentavano una grande fetta dell'indice. Andiamo ancora giù. L'information technology è salito a dismisura. Quindi, dallo scoppio della bolla, finito quel famoso scoppio, quel famoso problema, da allora, ragazzi, è soltanto la continuazione di una crescita incredibile. E praticamente l'information technology è il settore, è stato il grande settore degli ultimi anni, dell'ultimo decennio, ormai anzi degli ultimi 15 anni, e ha finito per conquistare definitivamente ad oggi l'S&P 500. Se poi noi andiamo in altri settori ancora, vedete materiali, utilities, stiamo veramente a dei livelli bassissimi. Dopodiché andiamo in settori ancora più di nicchia, ancora più specifici, come il lusso, le automobili, ecco, potrei continuare qui all'infinito, non voglio starci 20 minuti, avete capito la mano della favola, ecco, chiudo qui con department stores, ragazzi. Ora, sono usciti dei dati interessanti, perché qualcuno potrebbe dirmi, ma abbiamo visto delle criticità, un po' di indebulimento, alcuni segnali sull'economia americana, quindi, hai visto mai che si inizia anche a scontare un pericolo recessione? Ma direi di no, oggi è uscito un dato incredibile, eclatante, che è andato a sconfessare quello che ve li portavo fino a pochissimi giorni fa, non erano dei dati che io mi inventavo, ci sono degli analisti, anzi, vi era la Fed di Atlanta, che ci indicava le sue proiezioni sulla crescita del GDP americano. tutti quanti si aspettavano al massimo un 1.9, e esce il dato 2.8. Cioè, non è un dato con una piccola differenza, è un dato eclatante, si è discostato veramente tanto dalle proiezioni, dalle previsioni della stessa Fed e degli analisti, più 2.8. Della serie, ogni volta che gli strumenti d'America sembrano un minimo in difficoltà, che si stiano un minimo addormentando, rialzano sulla testa, ed è un dato forte. Inoltre, se andiamo a vedere il PMI, il Composite, quindi sommiamo il manifatturiero e i servizi, guardate il trend in crescita, questo indice di espansione, quindi l'economia si mantiene forte, ogni tanto dà qualche segnale di potenziale rallentamento, ma poi quando arriviamo al dunque, alla fine dobbiamo dire che l'economia rimane ancora forte negli Stati Uniti d'America, non possiamo asserire il contrario, non possiamo parlare di recessione, il mercato come potrebbe scontrare una recessione? Si stanno semplicemente prendendo i profitti di corse incredibili, su alcuni indici e su alcune specifiche aziende, su determinati settori. Inoltre, non è che gli investitori stanno scappando via e non ne vogliono sapere, ad esempio, per nulla dell'azionario. Io stavo osservando i miei portafogli, sia quello in ETF, sia quello di stock picking, ad esempio un portafoglio con azioni da dividendo. Ora, senza segnalarvi magari cose un po' più di nicchia strane e particolari, sono andato un attimo a studiare quei settori più tradizionali, quelle aziende un po' più conosciute, in tal senso. Come possiamo vedere con la linea nera, qui ho messo l'ETF QQQ, quindi che va a replicare il Nasdaq? Guardate, nelle ultime giornate tante tante prese di profitto. E chi è che sta facendo meglio negli ultimi 4-5 mesi? Dove si stanno spostando i soldi? In quei settori, in quelle aziende che erano state veramente dimenticate da Dio, le quali comunque avevano mostrato un passato glorioso. Parliamo ad esempio di Emo, che cos'è Altria? Sta facendo un più 30% semplicemente negli ultimi 4-5 mesi. Ha cominciato a salire a un certo punto e non smette più, magari smetterà domani mattina presto, io questo non lo so, ma intanto ha messo a segno un più 30%, perché non andava da nessuna parte, dava un 10% dividendo coperto, e quindi poi alla fine, come sospettavo, gli investitori si sono ricordati a un certo punto che esistono anche queste aziende. Quindi si prende profitto su ciò che ormai ha corso tantissimo, delle valutazioni importanti, e si vanno a investire i propri soldi in altre aziende che erano rimaste estremamente indietro, che erano state punite, che erano state dimenticate, o che pure dovrebbero beneficiare di un taglio dei tassi di interesse. Qui vediamo anche AT&T, che sta realizzando in pochi mesi un più 20%, anche le utilities, la stessa identica cosa, e quindi come vedete è soltanto una rotazione fisiologica. Ovvio, io non sto dicendo, non sta accadendo niente, quindi da domani mattina il Nasdaq con le S&P 500 ripartiranno, e staremo a 7000 punti a fine anno, assolutamente no, non ho alcuna idea di quello che accadrà, ma ad oggi, nelle ultime giornate, è accaduto semplicemente qualcosa che doveva accadere, che era un po' a ritardo, che è fisiologico, che è normale, quindi laddove tra qualche mese eventualmente vedessimo meno 20%, ecco allora quello è un cambio di trend in atto, bisogna andare a contestualizzare e ad analizzare. Ma in questo momento urlare alla fine dei mercati, allo scoppio della bolla, alla recessione imminente, è sicuramente un discorso prematuro, ed è soltanto un'invenzione, cioè non lo sappiamo. Io stesso ho segnato tante volte delle criticità, ma in questo momento non vi è assolutamente quella configurazione, non vi sono motivi per urlare questa cosa, anche perché chi la urla poi, il 99% delle volte, sbaglia, è l'unica volta che ha ragione, vi dirà, adesso ve l'avevo detto, ecco beh, lo sappiamo, ogni 15 anni il mercato crolla, c'è una recessione, va bene, ma se lo dici tutti quanti i giorni, certo, prima o poi ci indovinerai, qualcuno di voi giustamente scriverà qua sotto, un orologio rotto, due volte al giorno comunque segnala l'orario giusto. Bene ragazzi, sono qui giunto alla conclusione, il mercato come vedete non ci annoia mai, non ci delude mai, ci sorprende sempre, ed è bello anche per questo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per sostanere il mio lavoro qui su YouTube, io vi do appuntamento a prestissimo, nel frattempo lo sapete, vi auguro il meglio negli investimenti e nella vita. Ciao!